Tintoretto che difende la pittura è una delle principali opere realizzate da Francesco Pianta. Questa erma, scolpita nel 1657, è completamente realizzata in legno e colorata in alcune delle sue parti. Il personaggio di Tintoretto sta dialogando con Cicerone, che a sua volta difende la scultura. Tintoretto espone a Cicerone una frase di un libro, disegno e padre di tutte le arti. Pianta rappresenta Tintoretto in un modo realistico, il pittore sta infatti usando gli strumenti della propria arte. La scultura si colloca su un basamento sul quale ritroviamo la firma dello stesso Francesco Pianta.